eccoci qua carissimi amici siamo qua a fiorenzuola e sono in compagnia qua della vecchia joe e joe abbiamo una sorpresa pazzesca e cosa ci presenti? spettacolare perché abbiamo questa bellissima giulia questa giulia super di alessio dell'amico alessio che oggi ci ha fatto vedere che di cui adesso ci darà qualche notizia comunque veramente siamo ammirati da quest'auto ci ha fatto salire sopra ci ha fatto fare un giro è spettacolare ed eccoci qua niente mi ho l'onore il piacere insomma di presentare insomma essere il primo a presentare il sogno di alessio che si è realizzato ovvero alessio dopo sì non senza non senza dedicarci del tempo perché l'ho cercata per oltre un anno privato dove tutti profondano tanti scopi probabilmente macchine paciugate a suon di stucco e belle compagnie cifre esorbitanti incomplete con documenti regolari ce n'è di ogni e soprattutto come del resto il caso di questa come del resto il caso di questa macchine non conformi all'originale perché ricordiamoci che la giulia a differenza di tante altre macchine è una di quelle che ha la maggiore intercambiabilità di componenti con modelli più recenti e più vecchi questa per esempio portava paraurti mascherina anteriore e cofano anteriore della nuova super che è un modello uscito nel 74 mentre questa è del 73 e del 73 come vedete c'è qualche ritocco di carotteria da fare ma beh sono l'importante è stato veloce nel sostituire la mascherina nel riportarla all'originalità aveva già delle lievi abrazioni sulla carotteria per cui per cui andrà in carotteria a essere ultimata i fendi nebbia che tanti non digeriscono sono molto simili a quelli che montava la giulia carabinieri che erano ovali erano degli degli dei conosci o tagliella non ricordo ma sono fari che vanno anche sulla borsa e costano una cifra insorbitante gli originali mi sono voluto accontentare di quelli e poi qual è sono hai messo dei cerchi che dicevi sono un po' così adesso cerchi con una misura di gomme che davanti vanno bene dietro no e allora ho lasciato nel momento per il momento l'hai lasciati qua ma comunque perché voglio sabbiare riportare a nuovo i suoi cerchi originali e rimetterli su ma adesso per la sicurezza ho delle gomme buone almeno sulla batteria ecco qua giù insomma dai dici qualcosa giù cosa dici che è bellissima che all'interno dai un po' è veramente bella eh il fascino della giulia non lo batte nessuno esatto non c'è niente da fare tanti non gradiranno la radio moderna che vabbè dai è un pugno in un occhio però attenzione adesso scupa sesco attenzione cioè scupa sesco fra poco abbiamo chi arriva chi arriva super orione che sfreccia vicino la tua giulia insomma dai eh si arriva ecco qua eh comunque dai Alessio eh no sembrava vedete dai Alessio insomma ecco qua laggiù c'è il super orione eccolo qua vedete cisterna del grande Carlo Marazzato insomma dai Alessio abbiamo presentato il tuo sogno e so che ormai ti sei gettato in piena avventura o no Alessio che è la passione per la giulia se sei ormai l'esperto ci fai vedere insomma ci fa sentire il sound che la gente piace senz'altro guardate qua bravo Alessio finalmente eh Alessio siamo ritrovati eh cosa dici Gio vieni qua ci fa piacere aver incontrato oggi guardate qua spettacolo qua eh qualche segretario eh qualche qualche piccolo dettaglio che tanti ignorano allora questa è la spia del freno a mano questa qua sopra invece che con la nuova super è scomparsa è la spia del basso livello dell'olio dei freni quindi ci avverte quando abbiamo un potenziale pericolo con i freni abbiamo o le pastiglie consumate o una perdita di olio nel circuito idraulico ecco qua ragazzi sono qua qualche particolare per riconoscerla perché questo questo interno qua è un ibrido è un ibrido perché in tutta questa zona è originale è Giulia unificata del 73 perché questa ricordiamolo se non l'ho detto prima una Giulia unificata del 73 mentre la nuova super è uscita nel 74 ma si riconosce perché questo listello anziché essere color legno è in tinta nera e questa console qua che è identica alla 1750 non era presente sulla super aspetta un attimo Alessio attenzione spettacolo Giulia e Alessio con super orione guardate qua che spettacolo scezionale guardate qua è diretta guardate qua la diretta eh da Gio con Alessio qua Giuliano insomma è festa eh è festa eh grande Giuliano e niente insomma Gio ci siamo inventati a queste dirette che non si ripetono che non si ripetono è un spettacolo e niente insomma Alessio hai realizzato il tuo sogno ti sei gettato in nuove avventure che vuoi? ho gettato in più di una pontura perché questa è ancora la finire che già ne ho a casa un'altra eh è una 75 che è in programma adesso poco per volta guardate qua ragazzi a poco a poco si arriva tutto guardate qua che gran spettacolo eh poi la Giulia ha la sua comunque linea insomma per me è cattivata e ancora sportiva ma poi guardate qua poi insomma è ancora abbastanza attuale a me piace molto anche il colore Alessio ma sì diciamo che le macchine di una volta a differenza di quelle di oggi avevano la loro personalità come ce l'aveva la Fulvia come ce l'aveva la 1100 le macchine Maggiolino la Prince che tanto è disdegnata perché c'è la leggenda metropolitana che porta Spiga è una macchina che tecnicamente è 100 volte superiore alla 600 alla 750 all'850 non aveva cinghie non aveva tanti problemi a proposito Giù di la tua prima macchina appunto è stata la mia prima macchina è stata la Lancia Fulvia 1300 Coupé e quindi io ne sono particolarmente innamorata mi è rimasta nel cuore però anche mio padre quando ero piccolo aveva una Giulia era mille e tre quella di mio padre però è spettacolo eccola qua Alessio dai oh Gio una battuta finale qua di te la dicevamo sei contenta di aver visto io Alessio? sì sono molto felice che i nostri amici insomma si sono rincontrati oggi veramente mi fa piacere perché è sempre bene e per tutti promuovere sempre la pace in qualsiasi occasione io sono di questa opinione quindi sono contenta che oggi Alessio sia qui con noi di averlo anche conosciuto vai lì vicino alla zona e di aver visto la sua bella Giulia ecco qua spettacolo Alessio salutiamo tutti gli amici finalmente eh la passione comunque deve sempre unirci Alessio alla fine per il vintage ecco qua ciao a tutti spettacolo viva la Giulia di Alessio e le prossime Giulia eh che che porterà a casa che sistemerà ad Alessio non ha per Alessio non c'è non c'è il terrore di sistemare macchine e marce vero? no 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 spettacolo Alessio tanto tanto peggio sono messe e tanto maggiore la soddisfazione di vederle rinascere bravissimo anche perché sappiamo che in queste cose sei molto bravo Alessio esatto per cui non ti sei parlevando i risultati spettacolo viva Alessio viva la Gio